Aldo Cazzullo, il potente giornalista del Corriere della Sera, Aldo Cazzullo, ha scritto un nuovo libro, mi pare che Aldo Cazzullo pubblica uno o due libri l'anno, il libro lo ha pubblicato per la casa editrice Solferino, che è la casa editrice del Corriere della Sera, infatti si chiama casa editrice Solferino perché sta in via Solferino e in via Solferino c'è la sede del Corriere della Sera e ha pubblicato un nuovo libro intitolato Le italiane, poi ho letto una sorta di recensione e questa recensione ve la metto come linea di assunto del video dove si scrive che in questo suo ultimo libro Cazzullo parla di donne che hanno salvato l'Italia, scrive un libro al femminile a favore delle donne, sì sì, donne che hanno salvato l'Italia, ora la faccenda mi ha incuriosito perché io sono l'autore di quest'opera storico-mitologica che parla del passaggio dal matriarcato al patriarcato e spiega come le donne siano state imprigionate in patriarcato, ho detto vediamo un po' quali sono le donne che salvano l'Italia, che hanno salvato l'Italia e allora vedo una rassegna di immagini, vedo una rassegna di immagini tutte donne molto importanti, molto importanti, c'è una famosa attrice cinematografica, c'è un famoso personaggio televisivo e mi dispiace, non riesco a fare i nomi però io queste immagini ve li metto come link nel riassunto di questo video, una celeberrima attrice italiana televisiva cinematografica e non riesco a capire come siano queste a rappresentare le donne che salvano l'Italia, qua non mi pare di vedere immagini di badanti, le badanti sono quelle che accuriscono gli anziani, non mi pare di vedere immagini di badanti, di commesse, le commesse dei supermercati ma soprattutto badanti, nessuna di queste donne fa la badante, sono tutte belle, sorridenti, sono famose, donne famose, tutte belle, sorridenti, specialmente c'è questa attrice qualche italiana famosissima, 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 è come una statua, è come una statua, mi dispiace di non ricordarmi il nome adesso, è una statua, una statua vivente, ecco io non lo so Aldo Cazzullo perché tu dici, cioè io non so perché ci sono queste immagini, ma che forse nel tuo libro tu parli di queste donne qua, famose, molto famose, soprattutto nel mondo cinematografico, sono queste le donne che hanno salvato l'Italia, perché i cagli su due o questa recensione, è una recensione che recensisce male il tuo libro, ci sono le immagini di queste donne qua, c'è proprio la recensione, la recensione, rassegna stampa, rassegna stampa, new, rassegna stampa, new, le italiane di Aldo Cazzullo, donne che salvano l'Italia, eccole qua, sono otto immagini di donne sorridenti, ma molto famose però, molto altologate, specialmente c'è questa attrice statua, una statua, un'attrice statua, e allora non lo so, i cagli su due, o queste immagini non rendono onore al tuo libro, tu le devi rifiutare, devi dire no, no, tu rassegna stampa, non dovevi mettere le immagini di queste donne, perché queste non fanno fare bella figura al mio libro, oppure tu Aldo Cazzullo hai davvero scritto che sarebbero queste le donne, alcune donne che hanno salvato, che salvano l'Italia, che fanno fare bella figura all'Italia, non so se mi spiego Aldo Cazzullo, guarda che io Aldo Cazzullo ti seguo, ti seguo da quando, tanto, tanto tempo fa, ero venuto a sapere che tu hai scritto un libro intitolato La mia anima sarà ovunque tu sia, la mia anima sarà ovunque tu sia, hai capito? Ti seguo da allora, perché il titolo di questo tuo romaggio, La mia anima sarà ovunque tu sia, è proprio in sintonia col tuo cognome, capito? Col tuo, il tuo cognome, perché tu ti chiami Aldo Cazzullo mi pare, no, Aldo Cazzullo, La mia anima sarà ovunque tu sia, beh tu scrivi uno o due libri l'anno, io invece in una quarantina d'anni ho scritto solo queste opere, ho scritto solo queste opere, solo queste opere, Dio quanto sei potente Aldo Cazzullo, per questo che te voglio tanto bene e mi ricordo quella tua opera, quel tuo libro di tanto tempo fa, la tua anima sarà, no, la mia anima sarà ovunque tu sia, bravo Aldo Cazzullo, a te Aldo Cazzullo e a tutti voi, anche al Corriere della Sera, alla casa di Dicio Solferino.